La prima sigla di TGA1 con il ritorno dell'orchestra. Davvero fantastica questa sigla. Il colore blu del telegiornale, e il colore giallo del logo. Tutti insieme, blu giallo. La prima sigla del TGA2 digitale. Finalmente. Una sigla davvero fatta molto bene. Bravo Rai. Questa era stata l'ultima sigla del TGA3 analogico, prima che arrivava quello digitale. Sembra impressionante, e poi il colore del logo non è proprio il verde. Solo blu. Grazie. Grazie.